Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, dobbiamo parlare di Giorgio Chiellini che ha rinnovato per due anni quindi ce lo teniamo in squadra fino al 2023. Tante riflessioni da fare sui pro, sui contro eccetera senza schierareci a livello di tifo, dobbiamo cercare di analizzare bene la situazione cercando di essere quanto più oggettivi possibili in quelli che sono i rischi nel tenere Giorgio Chiellini altri due anni nei pro, ovviamente conosciamo tutti benissimo qual è il suo livello di gioco, di performance eccetera dobbiamo insomma analizzare la situazione mettendo veramente i pro e i contro nella bilancia cercando di trarre delle conclusioni che ovviamente sono delle conclusioni, delle previsioni più che delle conclusioni perché le conclusioni le potremmo fare solamente fra due anni, fra due anni insomma sapremo se questa scelta è stata saggia o meno ad oggi è complicato, oggi ci possiamo soffermare sugli elementi che hanno portato sicuramente la squadra Juventus società Juventus a rinnovare il contratto di Giorgio ragazzi io prima di iniziare ovviamente vi invito a lasciare il canonico like perché voi direte il like, che cacchio serve, serve perché interazione tutto ciò che fate all'interno di un mio video, il commentare, il discutere, io ne trago dei benefici per cui se volete supportare il canale, in tutti i suoi contenuti, in tutte le sue cose io vi raccomando veramente di mettere il like, se proprio vi fa cagare il video è anche il dislike ma lasciate il vostro feedback, è importante questo poi il commento, mi raccomando, con educazione discutete, non c'è bisogno di fare il tifoso di uno o dell'altro di sclerare della serie A, se dici così non capisci un cazzo, no perché in questo video anche io parlerò di pro ma parlerò anche di contro, perché giusto così mi raccomando ora io sapete benissimo quanto sono amante di Chiellini, non c'è bisogno di dirvelo lo testimoni alla maglia che ho lì dietro, c'è il suo autografo qua, c'è il suo autografo di là non l'ho mai incontrato e mi lo dì il culo perché per me è un grande personaggio di sport Giorgio Chiellini e quindi lo adoro quest'anno ha fatto un europeo da paura i numeri quest'anno dicono 21 partite in campionato, 4 in Champions League e 3 in Coppa Italia se non vado errato, quindi sono 28 gare nell'arco di 50 e passa partite forse un pelo meno ecco però insomma lì e questo è il numero delle partite, ha fatto un girone in poco più di un girone d'andata e insomma quando ha giocato non sempre ha giocato bene alla Juve quest'anno questo è fattuale all'Europa invece ha fatto delle partite da paura poco da dire, è stato uno dei migliori secondo me anche dal punto di vista mentale ha caricato e ha aiutato parecchio la squadra quindi nulla da dire da quel punto di vista, chapeau a Giorgio Chiellini ora dobbiamo analizzare invece bene quella che è stata la scelta della società io ve l'ho detto, per me Giorgio va bene il rinnovo ma vi dico una cosa, lui secondo me non può più offrire delle garanzie fisiche tali da sostenere il progetto Juve lui in difesa e basta della serie beh in difesa abbiamo Giorgio Chiellini, siamo a posto così no ahimè la Juventus dovrà progettare a prescindere dalla presenza di Giorgio Chiellini Giorgio è un lusso, è un plus o plus, chiamatelo come vi pare è un qualcosa che è in più che quando ce l'hai ti viene comodo è come avere veramente ragazzi un sacco di bottiglie di Barolo mal conservate perché Chiellini così fisicamente non è il massimo e hai quella là che se la apri ed è buona dici porca miseria che emozione, che turbine di emozioni enogastronomiche perché poi un vino simile lo accompagni con qualcosa di delizioso da mangiare ecco un bel Barolo un vino importante e poi magari ti capita quello che è mal conservato e puzza di aceto e inizia ad ossidarsi e inizia a dire ma e quindi Chiellini un po' così se ti capita la partita buona è il miglior Barolo del mondo e dici ah che bontà quando invece ti gioca male è quel vino accetto che dici cazzo questo non lo posso dare neanche veramente non lo posso gettare neanche al vattere che mi squaglia tutto ahimè così Chiellini cioè rischia di farti la partita orribile e la partita fenomenale oppure di esserci o di non esserci oppure sai sei in una fase finale di Champions League te lo ritrovi là ti entra titolare sei felice sei tranquillo c'è Giorgio e poi si fa male dopo dieci minuti sono ammazzate per il morale per quello io vi dico attenzione Giorgio Chiellini è ingombrante nella sua presenza perché insomma è tutto è carattere è forza quando in forma rappresenta secondo me il prototipo di marcatore top al mondo e forse dal punto di vista delle performance dei dati è ancora uno dei migliori marcatori al mondo presenti in azione in attività però quando non ti gioca è un disastro per cui io dico bene Chiellini però noi programmiamo a prescindere da Chiellini perché se poi ci sarà un Chiellini in più che è carico che potrà dare il suo apporto bene l'esempio calzante che ha fatto il buon Armanini su company ci sta anche secondo me company dal punto di vista della performance incideva molto meno rispetto a questo Giorgio Chiellini il miglior Giorgio Chiellini non è paragonabile al miglior company per cui Chiellini fa una performance della madonna quando decide di entrare in campo e il corpo gli regge il problema è quando non gli regge ed è lì che bisogna ragionare visto e considerato che lui riesce a fare metà delle partite e magari beh a quel punto è bene iniziare a programmare su altri giocatori poi quando hai un profilo come Chiellini che è extra in forma che dici oggi non passa nulla dietro perché c'è il miglior Chiellini a quel punto direi mettiamoli in campo per cui io capisco anche la preplessità di chi dice io non sono d'accordo perché l'anno scorso non ha giocato poi tanto bene alla Juventus e inoltre leva spazi a chi magari deve crescere che deve farsi le ossa a chi deve migliorare ragazzi sono argomentazioni non stupidi non banali ci sta questo tipo di argomentazione la verità è che sta nel mezzo la mio parere uno come Chiellini ti serve perché trasmette Juventus in itaffa da chioccia consiglia può essere veramente un uomo importante per lo spogliatoio Juventus è ben voluto da tutti è ascoltato da tutti e ha un certo potere quando c'è del caos in campo eccetera i migliori giocatori si affidano ai migliori leader e Chiellini è uno dei migliori leader quindi vai a levare una presenza importante è che non ha ancora un sostituto in squadra per cui Chiellini dovrà fare un passaggio di consegne innanzitutto a chi reputa lui intelligente forza trainante a livello morale del gruppo questo senz'altro sarà importante per defilarsi allo stesso tempo da questa leadership e affidarla ad un altro quindi un passaggio lento di consegne potrà darci ancora il suo supporto in campo con delle prestazioni importanti ma la Juventus ripeto non deve fare l'errore di progettare tutto su la presenza fissa di Chiellini altrimenti sarebbe un disastro epocale perché basta che ti si rompa una, due, tre, quattro volte ed è un disastro detto questo sono convinto che Massimiliano Allegri lo saprà centellinare nell'utilizzo su questo io sono straconvinto e sono sicuro che in quel ruolo che lo ha individuato come Bonucci Chiellini e Ronaldo i più anzianuti che dovranno dare l'esempio si intende proprio ciò che vi ho detto prima trasmettere leadership carisma ai giocatori che hanno secondo Allegri secondo insomma lo stesso gruppo spogliatoio la capacità di poter trainare la squadra nei momenti più complicati questa è la mia opinione su Chiellini vi ho detto i pro e vi ho detto i contro però il suo valore non si discute a livello economico prende sempre prende sempre meno rispetto a prima è una presenza importante per lo spogliatoio eccetera contro una presenza ingombrante magari per i giovani che vorrebbero giocare di più contro perché non puoi progettare con lui non può essere messa al centro del progetto perché è fragile fisicamente per cui deve essere un lusso da quel punto di vista quindi questo è un contro ma può essere ovviato dal momento in cui la Juventus decide di continuare la programmazione senza Giorgio Chiellini cioè ne tiene conto ma sa già che deve progettare senza l'altro è che un posto lui in lista fra due anni ancora io non me lo immagino però per ora godiamoci questo anno di Giorgio Chiellini e vediamo come andrà fatto sta che la Juventus ripeto non deve fare l'errore di progettare e di mettere al centro del progetto Giorgio Chiellini aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi al canale e sempre 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 fino alla fine forza Juve e ci vediamo stanotte in live un abbraccio grazie